rivoluzione in casa delle iene dove potrebbe cambiare più di qualche casella in vista della prossima stagione televisiva ecco come potrebbe rinnovarsi il format grande rivoluzione nella redazione delle iene in vista della prossima stagione il format televisivo di video inchieste giornalistiche sembra pronto a rinnovarsi completamente gli storici conduttori nicola savino e alessia marcuzzi coppia fissa dello show si sono detti addio televisivamente parlando è chiaro i due infatti non saranno più insieme alla guida del programma nel corso della prossima stagione savino ha già annunciato che per la prossima stagione non sarà una iena perché impegnato nel lancio di una nuova trasmissione tra lui e piero chiambretti italia 1 lo ha preferito alla conduzione di un nuovo format in cui dei bambini insegneranno ad alcuni vip argomenti che in genere si imparano anquinta elementare un programma leggero e divertente che andrà in onda a partire dal prossimo autunno e alessia marcuzzi invece dopo 20 anni alla conduzione del programma più scomodo della tv anche la marcuzzi potrebbe dirgli addio nel suo caso però non per suo volere infatti sembra che davide parenti inventore del format delle iene non l'abbia ancora contatta per la prossima stagione ancora tutto in forse dunque tanto che lei ha ironizzato dicendo rivolgendosi alla produzione ma nicola e alessia li potete richiamare o sono troppo vecchi se la marcuzzi non dovesse essere contattata per lei la stagione televisiva 2021-2022 potrebbe essere la prima senza alcuna conduzione in tv un anno sabbatico forzato dopo aver perso anche l'isola dei famosi e temptation island ma dopo il quale potrebbe tornare rigenerata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti